le vernici per il restauro parte terza le prime sintetiche la grande illusione dopo aver valutato i pro e contro delle vernici naturali arriviamo a una seconda fase dell'evoluzione di questi materiali ovvero l'ingresso sul mercato delle vernici sintetiche ho voluto chiamare questa parte la grande illusione perché semplicemente perché grandi speranze furono rivolte ai materiali di sintesi e come vedremo parte di queste speranze sono andate disilluse i primi materiali che furono testati come vernici furono i poli vinil acetati materiali nati addirittura nel 1917 videro le loro prime applicazioni nel 1934 e furono utilizzate anche se inizialmente maniera molto limitata soprattutto negli stati uniti fino alla fine degli anni 60 ancora nel 72 al congresso di lisbona viene citata una vernice finale a base di poli vinil acetato attualmente sul mercato l'unica vernice a base di poli vinil acetato è la vernice isolante berger che verrà ripresa quando andremo a parlare delle vernici isolanti sostanzialmente noi ci affidiamo oggi alle vernici chetoniche e le vernici acriliche le chetoniche arrivarono dopo breve tempo rispetto alle poli vinil acetate circa nel 1937 e il loro utilizzo è proseguito in maniera ininterrotta fino ad oggi le vernici acriliche arrivano un po dopo nel 1952 sono riportati i primi le prime prove di applicazione con un tipo di resina la 27 h che era un iso amil acrilato cioè una resina molto morbida e che vennero immediatamente seguiti da un normal butyl acrilato che era chiamato lucite 44 queste resine ebbero problemi analoghi alle poli vinil acetato e andiamo a vedere che titoli tipo di problemi sono stati riscontrati sostanzialmente un ingrigimento delle vernici applicate questo ingrigimento era dovuto a la lesione della polvere quindi la resina in sé era una resina stabile ma la bassa temperatura di transizione vetrosa ossia quell'intervallo di temperature al di sotto delle quali un materiale polimerico si presenta morbido plastico e al di sopra del quale invece il materiale è rigido e vetroso ecco queste temperature di transizione vetrosa erano troppo basse questo cosa significava che specialmente nel periodo estivo si verificava un ammorbidimento che era un ammorbidimento a livello molecolare e non veniva riscontrato a livello tattile chiaramente ovvero le vernici non apparivano appiccicose ma sostanzialmente a livello microscopico queste vernici potevano dare un fenomeno di adesione del particellato che si trovava all'interno delle sale dei musei o dei laboratori questo ingrigimento fu notato a distanza di alcuni anni dalle prime applicazioni un altro fenomeno invece molto più lento ma che fu ugualmente poi ravvisato a distanza di una ventina di anni fu l'aumento di polarità dovuta all'ossidazione di questi materiali e anche a un crosslinking ovvero la formazione di nuovi legami che andavano a creare un reticolo tra le catene di resine stese sulla superficie pittorica questo fenomeno anzi possiamo dire questo insieme di fenomeni portava a una maggior polarità e di conseguenza maggiore polarità anche necessaria per i solventi utilizzati nella rimozione di tale vernici con il test di feller considerando una miscela di xilene acetone si osservava una progressiva riduzione della apolarità ovvero un aumento della polarità necessario fino a arrivare a una fd 47 ovvero una miscela che era costituita al 100 per cento da acetone è chiaro che questa problematica portò come vedremo al termine di questa nostra che ha creato allo sviluppo di nuovi materiali ma guardiamo da questo schema comparativo tutte le sostanze di sintesi che sono state proposte utilizzate entro certi limiti temporali e anche possiamo dire scalzate via via dai successivi ingressi sul mercato delle vernici finali per dipinti limitatamente è stata usata anche la nitrocellulosa che però è qualcosa di utilizzo molto sporadico ai primi del novecento e di fatto come dicevamo dagli anni trenta arrivano sul mercato le poliviniracetato e le chetoniche le chetoniche sono state anche modificate per avere maggiore stabilità creando delle chetoniche ridotte che vedremo più avanti questi sono i marchi i nomi commerciali per esempio per le acriliche consideriamo il nome più famoso il paraloid la serie delle elvaciti che sono delle dirette eredi delle resine denominate lucite il plexisol infine è un altro tipo di polimero acrilico pronto all'uso o meglio venduto già sciolto in solvente mentre gli altri prodotti elencati sono tutti venduti come resine solide arriviamo poi negli anni 90 alle alifatiche e alle aldeidiche faccio notare come il primo lavoro pubblicato sull'utilizzo di materiali di sintesi nel restauro risale al 1932 un lavoro di stout e gettens che venne pubblicato appunto in quel quell'anno e si riferisce a un'applicazione svolta due anni prima nel 1930 e qui introduciamo un personaggio che ha fatto un po la storia della chimica applicata al restauro in particolare dei dipinti delle opere policrome ed è feller feller nel 1950 diventa responsabile delle ricerche del laboratorio di ricerca sui beni culturali alla national gallery a washington e nel 59 dell'international council of museums pubblica un libro fondamentale che ogni chimico che lavora nel settore dovrebbe aver letto on picture varnishes and their solvents che non scrive da solo ma assieme a stolo e jones altri studiosi di riferimento per il periodo e in questo testo si descrive per la prima volta il test di feller appunto prende il test che prende il suo nome che permette di individuare la polarità necessaria per la solubilizzazione delle resine da applicare o applicate nel caso della rimozione in questo testo viene messo in risalto anche il grado di viscosità dei materiali e altri dati come la durezza e la flessibilità dei film di vernice chiaramente l'ingresso sul mercato dei polimeri di sintesi non è indolore nel 1953 lucas e brommel si scagliano contro l'utilizzo dei materiali sintetici e feller poi replica apportando dei dati scientifici avevano ragione lucas e brommel oppure feller possiamo dire che avevano ragione tutti e tutti e tre e avevano torto tutte e tre ovvero sicuramente uno degli argomenti apportati da lucas e brommel ovvero la conoscenza dei materiali della tradizione e la sostanziale ignoranza sul comportamento dei materiali dei materiali sintesi era un argomento forte ma feller effettua delle prove di invecchiamento accelerato e alla fine fa pendere un pochino i piatti della bilancia dalla parte dei sintetici feller stesso che spinge per l'applicazione di questa vernice acrilica 27 h che abbiamo menzionato che non venne però commercializzata fa sì che l'applicazione venga fatta su molti dipinti della national gallery of art tra il 52 e il 57 e applicazione che però dovrà segnare uno stop proprio per la sostanziale negatività dovuta appunto all'ingrigimento già citato di questi materiali che dovranno poi essere rimossi e si applicherà poi nuovamente materiali diversi in questo schema ho voluto mettere insieme tutta una serie di materiali partendo dalle resine naturali utilizzate per le vernici cioè la damare e la mastice e via via i materiali che si sono avvicendati con il compito di creare i film protettivi sulle superfici come vedete in particolare dalla seconda colonna riferita alla temperatura di transizione vetrosa i primi materiali utilizzati il pva ajac e l'elvacite 2044 che si chiamava negli anni 50 lucite 44 vediamo una tg molto bassa 16 gradi tra i 15 e i 20 e quindi questi materiali soffriranno proprio di questa eccessiva morbidezza verranno poi introdotti materiali più duri come il paraloid b72 il paraloid b67 come vediamo la tg del b72 di 40 gradi e quella del b67 di 50 gradi anche i materiali che verranno poi introdotti successivamente come le laropal o le regarrets avranno sempre temperature di transizione vetrosa comprese tra i 40 e 65 60 65 gradi è pur vero che non possiamo utilizzare materiali estremamente duri per esempio la regarrets 1126 che ha una tg di 65 non viene normalmente utilizzata come vernice finale perché il suo film è troppo fragile a 65 gradi di temperatura di transizione vetrosa corrisponde una vetrosità eccessiva alle basse temperature quindi se nella sala si raggiungono ma è possibile che si raggiungano i 15 gradi siamo ben 50 gradi al di sotto del dell'intervallo e quindi il materiale è estremamente vetroso come possiamo vedere c'è anche una forte differenza tra i pesi molecolari le resine naturali hanno dei pesi molecolari medi che vanno attorno alle migliaia da circa 1000 1500 della dammar dai 2000 ai 6005 della mastice mentre le resine sintetiche in particolare appunto quelle utilizzate inizialmente siamo sull'ordine delle decine di migliaia o delle centinaia di migliaia come fu per l'elvacite dovremo tornare a una laropal k 80 per vedere una un peso molecolare invece più basso ovvero un peso molecolare simile a quello delle resine naturali e nella stessa linea si inseriranno poi le successive laropala 81 regarrez eccetera ecco una immagine che ho tratto dallo studio pubblicato su studies in conservation di rené de la righi che è stato dopo feller il principale studioso del dei materiali per la verniciatura finale e questo lavoro addirittura del 1987 ma è molto interessante questa questo grafico di ottenuto per una cromatografia gel per me esce un cromatografia una gpc dove sostanzialmente vediamo all'interno dell'ovale arancio i picchi delle curve relative a tutta una serie di resine che vedete descritte con i nomi di aiaf 27 h che abbiamo già citato il b67 il paraloid e l'aiac che è l'altra resina vinilica queste sono tutte resine polimeriche ad alto peso molecolare le resine naturali in questo caso viene riportata la dammar e la colofonia rosin hanno invece i loro picchi nella zona dei bassi peso molecolari e vediamo che solo una resina di sintesi la laro qualcappottanta la chetonica si colloca all'interno di questa area sostanzialmente l'altro punto critico è quello relativo alla polarità dei solventi necessari per sciogliere queste resine quindi non dobbiamo pensare solo alla loro rimozione in fase di restauro ma dobbiamo pensare anche alla loro applicazione la maggior parte delle resine polimeriche si sciolgono in solventi di media polarità mentre se noi guardiamo questa questo schema relativo ai rigonfiamenti degli oli degli oli di una di un dipinto che danno questo rigonfiamento a seguito del contatto con la tipologia di solvente che viene descritta nella seconda colonna possiamo identificare dei gruppi di solventi per esempio isotano e white spirit con piccole percentuali di aromatico che hanno un effetto nullo o scarso di rigonfiamento come vediamo da questi numeri solventi che danno medio rigonfiamento un rigonfiamento medio forte forte o fortissimo ecco in particolare è importante però anche la velocità a cui avviene questo fenomeno di rigonfiamento come possiamo vedere ci sono dei solventi che hanno un effetto molto lento sugli oli per esempio l'isottano e il white spirit hanno una velocità molto bassa mentre di metilformamide e animetilpirolitone rigonfiano in maniera velocissima gli strati pittorici questo vale per gli oli ma vale anche per molte sostanze polimeriche non a caso se noi guardiamo le velocità troviamo anche con un forte effetto rigonfiamento il cloruro di metilene ora possiamo ricordare come il cloruro di metilene sia stato il solvente principe per la realizzazione di sverniciatori e così anche la dimetilformamide in sverniciatori di molti molti anni fa e l'enimetilpirolitone questi solventi sono stati tutti abbandonati per il loro effetto sulla salute umana ma questo questo schema ci conferma come l'utilizzo di solventi a media polarità come quelli appena citati in basso sono tutti i solventi a media polarità può essere estremamente dannoso per gli strati pittorici interessante anche il valore dell'acetone l'acetone è un solvente che causa un medio rigonfiamento ma questo medio rigonfiamento avviene ad una velocità altissima quindi anche l'acetone è uno di quei solventi che deve essere evitato sia in fase di pulitura sia nelle formulazioni delle vernici al momento della loro applicazione questo schema ci spinge verso l'utilizzo di solventi apolari ancora una volta vediamo come i due solventi più apolari presenti in questo studio studio piuttosto datato della fine degli anni 80 sono l'isottano e il white spirit con bassa percentuale di aromatici bassa secondo gli standard americani perché 20 per cento comunque è già una percentuale piuttosto rilevante dato che noi siamo abituati più a lavorare con white spirit di aromatizzati dove questa percentuale è invece vicino allo zero quindi la spinta per i produttori di vernici negli ultimi periodi è stata quella verso i solventi a bassa polarità e qui affrontiamo un problema che è sostanzialmente insolubile anzi sono poi due problemi come vedremo l'ho voluto chiamare il problema della coperta corta che cosa vuol dire che un solvente con una polarità maggiore una polarità alta avrà un maggiore effetto sui ritocchi che sono stati effettuati in fase di restauro e quindi una vernice fortemente polare tenderà a sciogliere e muovere i ritocchi che sono stati effettuati d'altro canto se vado invece su polarità molto basse che cosa avrò avrò una separazione della vernice perché la maggior parte delle resine utilizzate con poche eccezioni che vedremo più avanti sono insolubili nei solventi completamente a polari come appunto l'isottano o la ligroina il problema è che uno dei migliori solventi i migliori solventi per l'applicazione delle vernici sono gli aromatici che però sono anche tossici e quindi il rispetto della salute umana ci spinge a evitarli o perlomeno di ridurne le quantità entro limiti bassissimi ecco nuovamente gli idrocarburi quindi i solventi a bassa polarità che influiscono meno sul ritocco devono essere miscelati con dei solventi un po più polari in modo da permettere la solubilizzazione della vernice e spesso lavoriamo al limite della polarità cioè in quella area che è anche dipendente alla temperatura non è strano osservare una perfetta limpidezza di vernici nel periodo estivo mentre nel periodo invernale si osserva una opacizzazione ed una a volte anche una separazione di fase delle resine dal solvente utilizzato. Il secondo punto che ho chiamato il problema della coperta corta 2 è quello relativo alla temperatura di transizione vetrosa una temperatura troppo bassa causa appunto l'adesione della polvere mentre la temperatura troppo alta andrà nella direzione della fragilità del film e di conseguenza attualmente dal punto di vista commerciale vengono utilizzati dei butili acrilati che sono un po' una via di mezzo tra questi due estremi descritti quindi Plexisol P550, Paraloid B67, la maggior parte delle vernici pronte sono basate su butili acrilati che però reticolano più rapidamente del B72 e quindi vi portano un problema di scarsa reversibilità. Le vernici acriliche sono tutte a catena lunga e hanno tutte un indice di rifrazione piuttosto basso questo fa sì che non si ottiene con una leggera verniciatura una grande brillantezza e bisogna andare a sovrapporre più strati come riportiamo in questa frase tre mani di paraloid al B72 al 15 per cento in xilene fino a ottenere uno strato brillante e compatto dopo 29 anni è ancora rimovibile in xilene. Questa era l'affermazione di Stephen Hackney, Senior Conservator della Tate Gallery. È chiaro che per noi questo tipo di verniciatura è veramente molto pesante per quello che è il gusto italiano e è chiaro che il materiale rimane reversibile in xilene attenzione quindi non solvente che è molto aggressivo nei confronti degli strati pittorici. Consideriamo comunque che la maggior parte delle resine delle vernici in commercio sono basate quindi su resine acriliche. Marchi famosi le Franche Bourgeois, Lucas, Thales e Maimeri utilizzano tutte butili acrilati. Questa tabella fu pubblicata al convegno ASI di Monaco del 2006. La ricercatrice della Tate Gallery mostrava come negli anni c'era stato un progressivo abbandono degli acrilici che sono colori viola. Come vediamo nel 1984 circa l'85 per cento delle verniciature venivano eseguite con Paraloid B72 e progressivamente questa quota si riduceva a circa il 35 per cento lasciando spazio a altri tipi di resine come MS-2A, Regarets oppure applicazioni di altre resine non individuate. Arriviamo quindi all'utilizzo delle resine ketoniche che è stato veramente molto molto diffuso. C'è uno studio che risale al 1962, nuovamente Feller, che descrive le buone caratteristiche di una resina che veniva chiamata AW2, questa resina fu migliorata con un processo di idrogenazione, ovvero i doppi legami che erano presenti su questa resina ketonica venivano ridotti da idrogeno insufflato e catalizzato poi su questi materiali. Si otteneva una resina che fu denominata MS-2A più stabile. Purtroppo l'avvicendamento della produzione delle resine ketoniche portò piano piano alla necessità di utilizzare altri tipi di resine come la AW2 che diventò la resina nota in commercio come MS-2B e poi la scomparsa di queste due resine a favore della keton resine N e della Laro Qual K80 che non permettevano la riduzione della resina stessa. La Laro Qual K80 tra l'altro terminò nel 2008 nella sua produzione. Conclusioni. Conclusioni di questa parte, le resine sintetiche che sicuramente sono state rivoluzionare non hanno sempre dato dei risultati positivi. Rimangono aperte le questioni, quella della reversibilità come abbiamo detto, il rischio del cross-linking particolarmente sensibile sui butili acrilati che spinge verso resine con catene più corte, le cosiddette Low Molecular Weight Resins, le LVMW. Il colore delle ketoniche attuali che sono gialle, quindi abbiamo delle vernici famose tipo la Lefranche Bourgeois Viber che sono già gialle in partenza e questo colore giallo si acuisce nel tempo. Infine la polarità. Ecco, le butili acrilato richiedono comunque una certa polarità per la loro rimozione e per esempio in caso di colori acridici sono impossibili poi da rimuovere. Come vedremo nella prossima puntata alcune di queste problematiche sono state risolte grazie all'utilizzo di altre resine tipo la Regalrez 1094 e la Laroqual A81.